Consulenze sulla realizzazione di salami, prosciutti, mortadelle, capocolli, via discorrendo. Non è che vi faccia diventare mulcini produzionisti che andate là a Petermagana in due e loro lavorate. No, io questo qui non lo faccio, ok? Però mi insegno la base, le basi che sono le temperature, che sono la realizzazione, il tipo della carne, il taglio, tutto quanto del discorrendo. In più, mi insegno anche a fare un maturatore, perché un maturatore costa la bellezza di 8.000 euro. Io ho la possibilità di, mi sono ingegnato, e con poche centinaia di euro possiamo fare insieme a un maturatore. Che se volete contattatemi, sia per l'analizzazione di salumi, prosciutti, salami, mortadelle, via discorrendo, e maturatori, ok? Li facciamo assieme, io vi do la lista delle cose da comprare e in video le facciamo assieme. Al limite, se siamo vicini, vengo io da voi, oppure venite voi da me, ok? Vi aspetto, sui miei canali, contattatemi, la mia mail è luisdauri, a chioccio, a gmail, il mio numero di telefono è 333 88 46 944, vi aspetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.